Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in un nuovo video sul mio canale Sono tornato, sono tornato dopo il vlog post partita, abbastanza deluso e amareggiato E' andato abbastanza bene il video, vi ringrazio, prima di tutto vi voglio ringraziare per i mille iscritti Siamo arrivati a mille iscritti, ora siamo a mille e quattro iscritti Quindi un bacione a tutti, grazie mille e a breve non dimenticatevi che arriverà lo speciale Uno speciale importantissimo che dovrete assolutamente vedere, quindi restate sintonizzati al canale Appunto per i mille iscritti Oggi però non siamo qua per fare lo speciale per questi mille iscritti Vi ringrazio ancora ragazzi per tutto il supporto che mi avete dato fin da quando ho aperto il canale Circa l'anno scorso e ora speriamo di volare tutti insieme verso altri traguardi Oggi un video importante, oggi come sempre cerco di aggiornarvi sulle questioni più calde Che riguarda la nostra amata squadra rosso-nera e parlo di mercato Parlo di mercato, perché come sapete con il closing avvenuto ormai quasi un mese fa Dopo una quasi telenovela per il Milan si sono accostati tantissimi nomi caldi In quasi tutti i reparti, perché diciamoci la verità Se vogliamo rivedere un Milan competitivo, non dico per il campionato Addirittura almeno per arrivare al terzo posto, quindi per tornare in Champions League Che spetta a un club che ha vinto tanto negli scorsi anni come il Milan Servono giocatori di spessore, servono almeno una quiz se non di più, forse anche due In tutti i reparti Si è parlato da questioni attaccanti, che però non tratterò in questo video Si è parlato di Abomeyang, si è parlato di Morata, di Benzema E di tantissimi altri attaccanti Probabilmente un colpo lo faranno raga, però non voglio parlare della questione attaccanti in questo video Così come non voglio parlare della questione centrocampisti Perché anche questo è molto caldo raga, non scordatevi che il Milan sta, almeno spero Che cercherà di scippare dalla Roma, che sì, per una cifra di 30 milioni di euro all'Atalanta Però non ho ancora detto nulla Ma non sono qui a parlare neanche di questo Se volete altri video sul calciomercato, giorno per giorno cercherò di portarli Sia per la questione attaccanti che per la questione centrocampisti Sono qui stavolta per parlare della questione dei difensori Vi dico la mia Sinceramente io tra tutti i due parti prenderei prima una punta Anche perché è la priorità, visto che non abbiamo una punta vera e propria Una punta da Milan Però comunque è importante anche il reparto di centrocampo E quello della difesa Quello della difesa penso che comunque Paletta possa fare il sostituto Non possa fare il titolare per un Milan competitivo E Romagnoli comunque deve essere il titolare Quindi due difensori bisogna assolutamente tenerli Tutti gli altri io potrei anche venderli Cioè i vari Gustavo Gomez Zapata Potrei anche mandarli fuori dai coglioni Anche perché per me non sono difensori da Milan Quindi tenendo conto che Paletta andrà in panchila ci vorrebbe un difensore degno Che potrebbe far crescere Romagnoli Perché sì, Romagnoli è il miglior difensore della Rosa in questo momento Però ricordiamo che è ancora giovane E potrebbe crescere ancora di più Anche se per me è già un buonissimo difensore Si è parlato di un po' di difensori Si è parlato di due difensori principalmente Uno che è diciamo stato un obiettivo anche del Milan nella scorsa estate Che è Musacchio E uno che è De Vrai della Lazio De Vrai della Lazio è un nome che è un po' più lontano da Milan Anche perché si è parlato di una probabile ipotesi Mentre quello di Musacchio è molto più caldo È molto più vicino Perché proprio in questi giorni tra le varie notizie Ho letto che il Milan è molto vicino a Musacchio Si è trovato un accordo che sarà circa di 18 milioni di euro Quindi non è neanche tantissimo Per un giocatore che è un difensore ex Villareal Che quest'anno sta facendo abbastanza bene Così come l'anno scorso È un argentino ed è anche nel giro della nazionale Allora che dire di questo giocatore? Vi dico la verità Io sono dell'idea che comunque un giocatore Prima di giudicare bisogna vederlo giocare in campo Come abbiamo fatto con Deleufeu Io comunque all'inizio Si non gli davo tanto Anche perché era un giocatore che era stato scartato da Everton e Barcellona Invece comunque Ci ha deliziato con buoni giocate Anche se purtroppo Farò un video anche su questa questione Andrà via a fine stagione Musacchio in tanti lo criticano Perché comunque l'hanno visto con la Roma Visto che la Roma ha incontrato il Villareal Ha fatto un disastro in difesa E poi il Villareal e Roma è finita 4-0 appunto E ha fatto un po' un disastro Però io non inizierei a fare pregiudizi di questo genere Vi dico la mia È un giocatore che non ho mai visto giocare Cioè più che non ho mai visto Ho visto qualche sua partita Sia il Villareal Dove comunque ha fatto buone prestazioni raga Cioè comunque non è assolutamente male come difensore per me E un difensore che non è male Soprattutto per questa cifra Sì 18 milioni non è poco Ma non è neanche tantissimo Pensando alle cifre che gli stanno sparando Ultimamente per i vari giocatori Quindi io lo prenderei raga Lo prenderei Lo proverei È comunque un giocatore che ha anche esperienza europea Visto che ha giocato in Europa League E noi ci servono assolutamente Non come Gustavo Gomez Che è arrivato dal campionato paraguaiano E quindi non aveva assolutamente nessuna esperienza di tipo europeo Mentre lui ha un po' di esperienza Ha un'esperienza anche abbastanza forte Visto che è già da un po' di anni Che è per lo difensivo del Villareal Che comunque non è una squadra di Spagna E quindi potrebbe anche rivelarsi utile Per una cifra che per me Può stargi per un difensore del genere Quindi io lo prenderei Anche perché Sembriamo molto vicini A questo giocatore Per me arriverà E lo crederemo a braccio aperto E cercheremo di fare una difesa Musacchio-Romagnoli E poi vedremo se comprare un altro Perché magari ci sarà la necessità Se vediamo qualcuno in difesa Di comprarne qualcun altro Magari con De Vrij Non ci starebbe abbastanza male Ecco E niente raga Io vi ho detto le mie opinioni Su questo nuovo Probabile arrivo al Milan Perché comunque ripeto Molto vicino Cioè Musacchio Questo difensore Del Villareal Vi dovete lasciare Tanti pollicioni in su Un commentino qua sotto Dicendomi la vostra idea Su Musacchio Mi raccomando Pochi pregiudizi E niente raga Ci vediamo nei prossimi video Mi raccomando Fatemi sentire tanto supporto Sotto questo video Facendomi sapere anche nei commenti Se volete Altri video su qualche mercato Quindi parlerò da questione Centrocampo e attacco Dopo aver parlato In questo video della difesa E niente raga Ci vediamo nel prossimo video Grazie ancora per i mille iscritti Continuiamo così E voliamo verso Sempre Ci vediamo le tanti Ecco Sempre Forza Milan